buongiorno a tutti gennaio il mese delle iscrizioni scolastiche che cosa succede a due genitori in separazione e divorzio che decidono di iscrivere il loro figlio a scuola e non sono d'accordo. Lo scoprirete tra pochissimo nel nostro format La Legge in Famiglia. Seguiteci. Silvia viene a studio perché ha un problema sull'iscrizione scolastica della figlia. Il padre infatti non vuole dare il consenso a che la bambina venga iscritta in una scuola vicinissima a casa, ma può Silvia iscrivere la bambina senza il consenso del padre? Generalmente no perché quando c'è l'affido condiviso due genitori devono accordarsi su quello che è il diritto all'istruzione del bambino. Nel caso specifico però Caio non aveva dato il consenso per una mera ripicca e quindi dopo vari tentativi di accordo che sono andati falliti lo studio è stato costretto a convocare il tribunale per ottenere questa benedetta autorizzazione all'iscrizione scolastica. Un'autorizzazione che viene promossa attraverso un procedimento di urgenza quindi molto veloce perché l'iscrizione scadendo il 25 gennaio ha bisogno di una decisione immediata e a questo punto il tribunale deve o no convocare il padre per sapere come la pensa? Anche qui generalmente sì, c'è sempre una comparizione delle parti perché il giudice vuole vederci chiaro cioè se questa iscrizione così contrastata è nell'interesse del bambino. A questo punto il tribunale convoca generalmente le parti ma in un caso per esempio a Belletri lo studio ha ottenuto nel 2020 un provvedimento senza la presenza del padre perché il presidente del tribunale ha ritenuto che il bambino avesse il diritto ad essere iscritto nella scuola e il genitore che si prendeva maggiore cura di lui cioè quello con cui viveva doveva avere la possibilità di iscriverla anche senza il consenso del padre. In ultima analisi è importante che chi rifiuta il consenso cioè il genitore che non offre il consenso debba offrire un'adeguata motivazione non si può impedire ad un bambino di andare a scuola e di frequentare la scuola diciamo più funzionale alla sua crescita e al suo equilibrio perché un genitore in affido condiviso è anche un genitore che deve condividere la responsabilità genitoriale con l'altro quindi sconsiglio rifiuti immotivati sconsiglio ripicche senza senso e invito i genitori che hanno figli minori a trovare sempre delle soluzioni e degli accordi così come facciamo noi nel nostro studio oppure a convocare immediatamente i tribunali perché possano decidere nel modo migliore e sempre nell'interesse del bambino. Tutti sapete che nella maggioranza dei casi la regola generale è avere l'affido condiviso di un bambino nelle separazioni e nel divorzio che vuol dire affido condiviso. Fido condiviso vuol dire condividere le responsabilità nei confronti del figlio ma non splittare il bambino una settimana da una parte e una settimana dall'altro. Di solito il bambino vive prevalentemente con uno dei due genitori nel 90 per cento dei casi ancora con la mamma e nel 10 per cento dei casi con il papà. Le decisioni di massima importanza devono essere quindi sempre condivise tra queste quella della scuola è una decisione che i genitori devono prendere sempre insieme salvo che non ci siano dei conflitti e salvo che non ci siano dei casi di affidamento esclusivo. Quando possiamo ottenere l'affidamento esclusivo? In casi eccezionali come possono essere gli abusi, le violenze sui minori o anche sull'altro genitore, la denigrazione di uno dei genitori da parte dell'altro può portare a un affido esclusivo in favore del soggetto denigrato, oppure quando uno dei due genitori non provvede al mantenimento del proprio figlio. Sia che ci siano dei provvedimenti che non ci siano dei provvedimenti del magistrato. mantenere il proprio figlio economicamente e provvedere a trovare le decisioni più importanti tra i genitori è indice di idoneità genitoriale. Quindi la scuola è una decisione da prendere in due soltanto nel caso in cui ci sia il conflitto viene convocato il tribunale ed il tribunale può decidere velocemente e sommariamente sempre nell'interesse del minore. Quindi attenzione a non trovare accordi, può essere nocivo per tutti. Per rimanere aggiornati iscrivetevi al nostro canale, guardate il format, non so come si faccia a fare questa pubblicità, però comunque studiodonne.it è il nostro sito, scriviamo articoli sui vostri casi e quindi se vi va e se volete saperne di più per ogni cosa che vi riguarda nell'ambito familiare seguiteci. Noi ci siamo sempre. Grazie. 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 Grazie.